non ho fatto andare tutti questi cazzo di stranieri come per noi li ho qui gli stavedi, li li metto fanno questi ridi, che prima non c'è stava sono gli stranieri che fanno questi ridi strani almeno si è un formaggio, no? anche la sopra la montagna stanno a fare un altro non mi hanno andato a morire ammazzati tutti quanti 37 sataniche stanno a fare, 4 picchiazze giovanni 29 agosto 45 è pure coperto, non me ne raccordo fanno fai un po' d'aria e mi hanno fatto rispetto mi hanno fatto rispetto perché stavo qua nella finezza non me ne raccordo sicuramente hanno simulato il vulcano quando è finita la carica chissà da quanto tempo stavo in atto non me ne raccordo non me ne raccordo non me ne raccordo fanno rispetto uno si sente perseguitato, no? perché guarda che cazzo di fumo che stanno a fare se non è un vulcano stanno a fare la mina tutti i giorni se stai incendiando il bosco della marcia la mia luce pochina la prima la prima ho la prima la prima la prima la prima E' giusto che avevo minuto? Perchè venuto l'isberto? Appena mi faccio, mi fanno sti fogli. Ve posso vigliare a fararisi a tutti. Maledetti, zozzi, luri di bastardi. Maledetti, zozzi, luri di bastardi. Grandi bastardi, schifosi, terroristi. Grazie.